Salve a tutti, finalmente sono tornato dalle vacanze e posso finalmente iniziare la prima puntata di questo videoblog. Come vi avevo detto, nella prima puntata avrei iniziato ad introdurre quello che è il mio metodo, che amo chiamare il metodo scientifico applicato all'attore. In questa prima puntata voglio affrontare il primo caposaldo del metodo scientifico che è stato riadattato in modo molto sofisticato, direi, a quello che è il mondo della recitazione e il primo caposaldo del metodo scientifico non è altro che l'osservazione. Bene, l'osservazione nell'ambito scientifico serve essenzialmente per darsi il modo di poter studiare un fenomeno. Lo scienziato osserva un fenomeno, dopodiché ne fa delle misure, fa dei disegni, ad esempio se ci immaginiamo Galileo mentre osserva le lune di Giove e fa i suoi disegni, i suoi carteggi attraverso i quali si rende conto che c'è qualcosa che cambia, che c'è qualcosa che evolve, che c'è qualcosa che dava un valore a quello che era il nuovo sistema dell'universo, del sistema solare che era quello copernicano. Oppure se ci immaginiamo Newton mentre osserva cadere la mela e lì attraverso quell'osservazione banale ebbe l'intuizione che c'era qualcosa che governava quel cadere, che la Terra avesse il potere di attrarre verso di sé gli oggetti in caduta libera. Beh questa osservazione banale ha modificato enormemente l'ambito scientifico perché l'osservazione è quello che ci dà modo di poter capire le cose. Lo scienziato attraverso l'osservazione capisce un fenomeno, ne prende delle misure e poi trae delle conclusioni che portano ad una teoria. L'attore medesimamente osservando il fenomeno della vita può in una certa qualche misura imbrigliare quella vita per poi portarla sul palco. Imbrigliare la vita e portarla sul palco non è una cosa semplice. Quindi occorre mettersi lì ed osservare, osservare ed osservare. Ora per quanto riguarda l'ambito recitativo secondo me l'osservazione può essere divisa in quattro categorie. C'è l'osservazione esterna, c'è l'osservazione interna, c'è l'osservazione esteriore e c'è l'osservazione interiore. In questa prima puntata voglio occuparmi dell'osservazione esterna. Che cos'è l'osservazione esterna? L'osservazione esterna non è altro che l'esperienza che quotidianamente viviamo tutti quanti, cioè quella di vedere lo scorrere della vita attorno a noi. Ora questo scorrere della vita attorno a noi è fondamentale per l'attore perché è nel mondo esterno che incontriamo una miriade di personaggi, che incontriamo una miriade di caratteri, che incontriamo una miriade di sfumature che noi possiamo prendere, cogliere, metabolizzare e poi dargli vita su un palcoscenico. Ora il mondo esterno è costellato di tantissimi personaggi. Uscendo di casa incontriamo il tabaccaio, incontriamo il barista, incontriamo il cassiere del supermercato, il meccanico, l'avvocato se abbiamo problemi giudiziari, il medico se abbiamo problemi di salute e tutti questi personaggi hanno caratteristiche distinte. Il tabaccaio è una persona che sta seduta dietro un bancone, che vende sigarette o che vende grattevinci ed ha un modo di rapportarsi con il cliente che è tipico del tabaccaio perché pone determinate domande il tabaccaio. Di conseguenza ha un suo linguaggio, specie se poi parla delle cose che appartengono al suo mondo, che è quello del lavoro del tabaccaio, quindi se parla di sigarette o parla di grattevinci o parla di slot machine o parla, non so, di quello che è attinente al suo mestiere. Idem, nello stesso modo, se parliamo con l'inserviente di un supermercato, lui si riferirà a noi adottando un linguaggio, un modo che secondo lui è il modo giusto di rapportarsi con un cliente per dargli un consiglio su cosa ad esempio comprare o ad esempio su cosa in offerta eccetera eccetera il medico, anche il medico ha un linguaggio tutto suo, quindi quando noi andiamo dal medico quello che abbiamo la possibilità di osservare è un linguaggio, è un modo di porsi verso di noi, idem l'avvocato, quindi il mondo esterno è costellato di personaggi di cui noi dobbiamo fare tesoro perché quei personaggi come noi tutte le mattine si svegliano più o meno presto o più o meno tardi a seconda di quanto siamo dormiglioni o meno, tutti quanti si lavano, si spera, altrimenti poi sul lavoro chiaramente ci sono dei problemi di tipo delle percezioni che hanno a che fare col mondo olfattivo che sarebbe un po' spiacevole, insomma l'avvocato con le ascelle che puzzano non fa piacere, cosa diversa è se è un meccanico, allora il meccanico se puzza un po' non ti poni tanto il problema perché è meccanico, lavora con i motori, lavora con gli oli, fa un lavoro di fatica, di conseguenza se puzzicchia va anche bene, ma l'avvocato, il medico, quindi tutti quanti più o meno la mattina ci laviamo, tutti quanti facciamo colazione, cioè chi ama il cappuccino col cornetto, chi preferisce prendere il tè con i biscottini, oppure c'è quello che si mangia i biscotti alla crusca perché deve stare a stecchetta perché deve dimagrire, o che so io, tutti quanti, oppure fa la colazione all'inglese, allora uova strapazzate, bacon, che proprio ti dà un sacco di energia, la mattina parti subito con una spinta di quelle incredibili e tutti quanti però alla fine facciamo una cosa, facciamo una cosa che è quello di uscire fuori di casa per affrontare il mondo esterno, usciamo di casa e affrontiamo il mondo esterno e a quel punto, a quel punto la maggior parte di noi lo fa perché sta andando a lavorare, quindi tutto quello che ha preceduto l'uscita di casa non è stato altro che per preparare noi stessi ad interpretare un personaggio, ora sì c'è la disoccupazione che sta al 200.000%, molti giovani come me non riescono a trovare un lavoro, tanti non vedranno mai un lavoro se non in cartolina, forse semmai faranno le cartoline coi lavori e chissà semmai potremo usufruire di una pensione, ma detto ciò avendo scelto di voler fare la vita, il mestierante del teatro, del cinema, fare l'attore, mettiamoci l'anima in pace perché abbiamo scelto di fare un mestiere di eterno precariato, quindi non aspettatevi stipendi, non aspettatevi viviamo di aria in sostanza, di arte e allora dobbiamo rubare dagli altri che hanno questa fortuna di avere un lavoro, un lavoro fisso o un lavoro part time, rubare dalle loro vite quello che ci serve a noi per imbrigliare quei personaggi e poi portarli su palco e questa è una cosa fondamentale per l'attore, quindi l'osservazione del mondo. Dunque l'osservazione esterna è fondamentale, infatti vi propongo un piccolo esperimento, prendete un bicchiere e ponetelo su un tavolo, a questo punto chiedete a chiunque vi sia intorno, vi consiglio amici altrimenti vi prendono per una persona stramba, chiedete a chiunque di loro di prendere il bicchiere, a questo punto quello che in modo del tutto naturale noteremo è che ognuno approccia il bicchiere in modo diverso, diverso specialmente da noi, quindi questo porsi rispetto a un oggetto in modo particolare per ognuno ci racconta una storia, quel gesto ci racconta qualcosa di quella persona, quindi l'osservare il mondo esterno quello che ci aiuta a fare è porci delle domande e porci delle domande è fondamentale per un attore, un attore deve costantemente porci delle domande, specialmente quando vuole affrontare un personaggio, vuole costruire un personaggio, deve farsi tante domande e deve cercare di rispondere a quelle domande il più possibile, nel modo più approfondito possibile e più riusciamo ad andare in profondità nelle risposte e più significa che minuziosamente abbiamo osservato il mondo esterno, il mondo esterno ci torna utile per questo. E poi l'osservazione del mondo esterno è una cosa che facciamo in continuazione, quindi sembra una cosa lontana da noi ma in realtà è una cosa che ci appartiene perché è costante, anche io in questo momento che sto qui e parlo alla telecamera sto osservando il mondo attorno a me in una certa qualche misura, uso delle percezioni diverse perché in questo caso è coinvolto più l'udito, l'olfatto, non la vista perché sto guardando la telecamera per parlare con voi ma di tutte queste cose io faccio tesoro, sembra incredibile, sembra impossibile ma è così. Poi l'osservazione esterna ne abbiamo una dimostrazione lampante tutti i giorni perché noi tutti i giorni nella vita interpretiamo diversi ruoli, interpretiamo il ruolo del figlio, interpretiamo il ruolo del nipote, interpretiamo il ruolo del fratello o della sorella o interpretiamo il ruolo del fidanzato o della fidanzata. Beh in tutti questi contesti sfido chiunque a dire il contrario noi ci rapportiamo in modo diverso con le persone che abbiamo di fronte, con un padre, con una madre, abbiamo un modo, un linguaggio, con un fratello o una sorella ne abbiamo un'altra, con una nonna o un nonno un altro ancora. Poi chiaramente si possono avere delle sfumature diverse in questi tipi di atteggiamenti a seconda del tipo di vissuto che abbiamo con quelle persone. Ma questa osservazione che è esterna ma che se vogliamo in una certa qualche misura è in modo riflesso anche interna ci permette di comprendere meglio noi stessi. Quindi osservare il mondo esterno ci aiuta a comprendere anche noi. Quindi questa è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo esercitarci continuamente ad osservare, osservare, osservare ed osservare. Ora io interrompo qui questa prima parte della puntata che era dedicata all'osservazione esterna. Nella prossima puntata parlerò dell'osservazione interna e inizieremo a fare quei passetti verso quello che è proprio concretamente il lavoro dell'attore. Quindi io spero di ricevere da voi dei feedback positivi, negativi, non mi interessa. L'importante è che ci sia un moto dentro di voi che vi porti a fare dei commenti, a fare delle domande magari, ponetemi delle domande. Io sono qui, sono a vostra disposizione. Grazie.